Luce accese per pochi ma buoni tre anni sul miglio, unico DIP, uscita cazzo, Usman B, Union Wise, Unbeatengriff, lui è il favorito, Universo SM, Ubaldo Par, l'alternativa è proprio quello di Gallucci, anche Ubaldo Par, è molto migliorata questa Usman B, sta correndo molto bene questa targata B. Arretrato Ubaldo Par, inizia a prendere velocità la macchina, buono l'allineamento, Unbeatengriff a largo di tutti, ha le prece con Universo, di dentro Usman B, insiste l'allievo di Gallucci e sta passando, e all'attacco della piegata il targato SM al comando, 13 e mezzo il lancio, così fila indiana al completamento della piegata, con Universo SM, UnbeatenB, Usman B e gli altri, si va al completamento dei 400, 30 e mezzo, viene via Unbeatengriff ed è un freeway per l'allievo di Mario Minopoli, che dopo 500 va al comando, è l'ennesimo Varen di turno, leader dopo 600 metri di gara in 45 e 3, si viaggia da 1,15 e mezzo. Cavali che affrontano la piegata, si fa notare Ubaldo Par per linee esterne, Cavali ha il completamento del mezzo miglio iniziale, 1,1 e 4, 16 e 1 di frazione, e Ubaldo va a largo di Universo, intanto il leader comincia nuovamente a pedalare, allunga e si distende, completa il chilometro in 16 e mezzo, 15 e 1 di frazione, Ubaldo staziona a largo di Universo, mentre Unbeatengriff è saldo leader. Cavalli sulla curva finale, redditizia alla frazione di fronte, in 14 e 3, 1,38, i tre quarti di miglio. Si va al completamento della curva finale, i cavalli si presentano, indirittura, un beatinggriff allunga, mantiene il comando su Universo, un beatinggriff facile al comando su Universo, che però va di dentro, cavalli in zona a traguardo, un beatinggriff si salva da Universo. Due minuti abbondanti, 1,15 e mezzo, i colori dell'avvocato Gragnaniello, cost to cost, 1,81 in chiusura, di questo allievo di Minopoli, un Varenne, ma molto migliorato ha anche Universo, che gli arriva a metà cavallo, ma tutto sommato ancora è netto sul traguardo. Cinque, sei foto in questa corsa con Unbeatengriff e Universo, che si sono migliorati ulteriormente. È tutto linea allo studio.